Nuova udienza preliminare questa mattina davanti al GUP del Tribunale di Pescara Fabrizio Cingolani sui primi due filoni dell'inchiesta dei quattro complessivi riguardanti i presunti illeciti negli appalti dell'ASL di Pescara e in particolare le attività dell'imprenditore della sanità privata Vincenzo Marinelli. Proprio la posizione di Marinelli sulla base delle risultanze della perizia risposta dal giudice dalla quale è emerso che l'imputato è alle prese con un complesso psicopatologico irreversibile ad evoluzione peggiorativa che impedisce la sua partecipazione fisica all'udienza è destinata ad essere stralciata su tutti e quattro i versanti. Con ogni probabilità lo stralcio verrà formalizzato già nel corso della prossima udienza, calendarizzata per il 29 e 30 ottobre in riferimento al secondo filone e al 5 novembre per quanto concerne il primo. Due filoni che in ogni caso non verranno riuniti ma che contano complessivamente 30 imputati tra i quali l'ex direttore generale dell'ASL Vincenzo Ciamponi, l'ex consigliera regionale Sabrina Bocchino, il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, oltre a diversi imprenditori, collaboratori di Marinelli, funzionari e dirigenti dell'ASL. Le accuse, a vario titolo, sono di corruzione, turbativa d'asta e altri reati. Questa mattina in aula il giudice ha deciso di posticipare l'inizio della discussione alla prossima udienza poiché le difese di diversi imputati hanno fatto sapere di essere intenzionate a valutare la richiesta di riti alternativi. Diversi gli imputati che hanno già trovato l'accordo con il PM per patteggiare o stanno per definire l'intesa. Tra questi la dirigente dell'ASL Tiziana Petrella, l'autista di Marinelli Graziano Canonico e il contabile di Marinelli Pasquale Sentenza. Nelle prossime udienze si entrerà nel vivo e si deciderà il destino processuale degli imputati.